Ciao, allora noi siamo qui nella camera numero 3 pronti per fare un'intervista Siamo noi due intervistatori, il nostro cameraman Noemi, detta anche Noemi E il nostro intervistatore è Lucchino Che mi chiamo Lucchino? Allora, prima facciamo un giro di nomi, capito? Come ti chiami? Nicolo Cognome? Gaston Te? Tommaso scorto E l'ultimo? Di Giorgio Dario Prossima domanda Allora, prima domanda Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? No, tanto lo sanno Qui c'è un po' di rumore Dopo le andremo a picchiare tutte Sì, dopo le picchiamo Cosa ne pensate della montagna Rodengo 2012? Nicolo Che bella Però ci sono dei bambini che rompono le balle Eeeh Vai Il panorama è bello però c'è troppa gente che entra in camera e ruba Stessa opinione di loro due Ok Ruba niente oggetti preziosi niente Cibo Cibo No, cibo no Però posso dire cosa? Avete sbagliato in un approccio Siete andato a dirlo a tutti Tra un po' c'erano i manifesti No Allora Cambio domanda Cambio domanda Allora Manda numero due Cosa ne pensate? No Si deve andare a mangiare Cosa ne pensate degli animatori? Va bene adesso Cosa ne pensate degli animatori? Gli animatori sono bravi Di Luchino in particolare Luchino non è bravissimo perché? Sì non vale cioè Valgono anche le leccate Luchino è bravo perché tira Tira Cioè manda via Manda via i bambini che entrano in casa nostra In casa nostra? Sì in camera Sì che sono bravi Basta E di Luchino? Che è bravo Eh? Gli animatori sono bravi Luchino è un grande Perché dorme con noi Ah ecco Diciamolo perché Luchino è un grande Non è così grande Ne prendiamo anche il mio letto Anche è questo E io Cosa ne pensate della Cosa ne E lui tira anche i calci la notte Me ne ha tirato uno in faccia stanotte Allora Cosa ne pensate della cameraman Noemi? Come animatrice? Ma cos'è? La camera? Camera man Noemi Lei Lei Noemi Cosa ne pensi? Cosa ne pensi di Noemi? È brava Bella Simpatica Cosa? Come animatrice È brava Ok Brava Grazie Brava Ok È brava Ah è brava Brava Non hai niente da dire? Dormi in camera con te No 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 Ok Adesso Luchino è superiore Lo so grazie Adesso Adesso Ci dobbiamo lasciare con un saluto Ciao Il saluto È questo Si può stupare un attimo? Ok No 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 Grazie.